Marcello Gazzola, grande delusione perché naturalmente nessuno si aspettava di perdere qui. Prima di tutto noi, perché avevamo preparato la partita per cercare di dare continuità a quello che è stato fatto nelle due partite precedenti, cioè di dare continuità di risultato che in questo momento penso sia la cosa più importante per consolidare la posizione di classifica. La differenza non ha fatto solo gli episodi o forse anche la maggior capacità della squadra dei casi di adattarsi al campo e anche di metterci la grinta? Sì, sicuramente, non vogliamo assolutamente dare al campo, cercare nel campo un alibi per questa sconfitta assolutamente. Gli episodi sì, alla fine loro non è che si sono mai resi particolarmente pericolosi e anzi dall'altro canto noi dovevamo magari essere più cattivi il primo tempo a cercare di concretizzare quelle palle e gol che abbiamo creato. Però senza che diventi un alibi, perché in effetti non è che la cosa sia meno grave, però a me è parso che il campo abbia veramente incidio, soprattutto quando era il momento che il Parma dovesse fare gioco, cucire delle azioni, creare delle occasioni di attacco, vedevo gente che scivolava, controlli difficoltosi, loro magari che avevano un gioco diverso, magari portavano più palla, avevano meno di questi problemi. Sicuramente loro sono più abituati di chiunque altro perché si allenano tutti i giorni su questo campo e ci giocano il sabato. Sì, è un campo diverso, non ti posso dire che se è meglio o peggio di quelli naturali, però sicuramente è molto diverso, i rimbalzi della palla, gli scivoloni, poi il secondo tempo è cominciato anche a piovere abbastanza pesantemente, per cui diciamo ha inciso, però non è assolutamente un alibi, non vogliamo l'alibi del campo assolutamente. Su tu esci zuppicando, speriamo ovviamente che sia niente, Gianni Munari è uscito nell'intervallo infortunato, anche lui insomma continua questa catena anche di episodi sfortunati. Sì, io dovrei aver preso solo una botta sul finale di partita, ho fatto ginocchio contro ginocchio male, ma penso sia solo una botta. Gianni ha avuto un risentimento all'aduttore muscolare, speriamo, valuteranno nei prossimi giorni, ma speriamo di non perderlo e di stare, anzi di averci nei più possibili giocatori perché ci sono ancora tante partite ancora più importanti. Questa purtroppo è una delle tante sconfitte del Parma in questo campionato, se non vado a rato memoria una decina, però più la stagione è avanti e più le sconfitte sono gravi perché ovviamente c'è meno margine per recuperare, le altre, vedi il Perugia, vedi lo stesso Foggia, il nostro prossimo versario, stanno correndo e quindi ti lasciano forse un po' meno sereno. Certo, perdere a inizio stagione è tutto un altro sapore perché hai davanti ancora un campionato intero, perdere verso il finale di stagione, ad aprile così, certamente ha una pesantezza diversa. Non ci dobbiamo nascondere, sta a noi adesso domenica, sabato, a sfruttare il fattore campo con l'aiuto dei tifosi per rimetterci subito in carreggiata. Un po' che non lo frequentavi questo campionato, come lo hai ritrovato? È ancora l'agonismo alla base di tutto? C'è più o meno tecnica di quella che ti aspettavi? L'aspetto tattico? C'è tanto agonismo, l'agonismo ormai penso in Italia ci sia in qualsiasi campionato, ovviamente in Serie B ce n'è di più, c'è più aggressione, più cattiveria, appunto più agonismo. Per quanto riguarda la tecnica ci sono anche squadre strutturate che tecnicamente sicuramente possono dirle loro.